Nella serata di martedì 19 dicembre, in occasione delle celebrazioni per la conclusione del nono centenario della morte di San Berardo, patrono di Teramo e della Diocesi, farà visita in città il segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin. Ad annunciarlo è stato il Vescovo di Teramo Atri, Lorenzo Leuzzi, che ha presentato il calendario degli appuntamenti, in vista della chiusura dell'anno berardiano, ma anche di percorso le tante iniziative che si sono svolte in questo anno molto importante per la Diocesi di Teramo Atri. Sì, è un momento importante e conclusivo dell'anno berardiano, abbiamo vissuto tanti momenti molto belli, ma soprattutto di impegno e di servizio in tante realtà sociali e culturali del nostro territorio. Sono molto contento di questa condivisione e soprattutto la possibilità per la nostra chiesa di Diocesa, proprio pensando a San Berardo, di poter aiutare il nostro territorio ad essere capace di progettare il proprio futuro con serenità e con fiducia, nonostante gli avvenimenti, pensiamo rispetto al terremoto, ma pensiamo anche a riattuare eventi internazionali. Credo che, come ho scritto nella mia lettera, che la nostra Diocesi, il nostro territorio, ha una comunità capace che può davvero offrire prospettive non soltanto per se stessa, ma anche per gli altri. L'obiettivo della presenza di Parolin è anche quello di tenere alta attenzione sulla Cittadella della Carità, il progetto da 10 milioni di euro che permetterà il recupero dell'ex ospedaletto per il trasferimento di servizi della Caritas diocesana, tra cui una nuova mensa e un co-housing sociale. La Cittadella della Carità è una grande occasione che deve partire e quindi spero che questo evento possa essere l'inizio di una presentazione del progetto e dunque che tra qualche tempo, speriamo, tempo breve, possa essere per tutti. Intanto è una grande occasione per rilancio e recupero di uno stabile, ma poi soprattutto di poter dare a tutti un segno di come è possibile camminare insieme. Ci auguriamo che San Berardo protegga questo cammino di progettazione e anche di impegno di realizzazione.